ciao a tutti oggi vediamo come si realizza il punto cordone in rilievo per il punto cordone in rilievo dobbiamo lavorare un tot di catenelle non c'è un numero multiplo specifico dobbiamo poi iniziare a lavorare la prima riga iniziando a lavorare quindi una maglia alta partendo dalla quarta catenella quindi contiamo 1 2 3 4 sulla quarta catenella andiamo a lavorare una maglia alta e andremo a lavorare su ogni catenella una maglia alta per tutta la riga semplicemente ecco qua adesso andiamo a realizzare il secondo la seconda riga allora adesso dobbiamo andare a fare il punto gambero ok allora quindi dobbiamo lavorare una catenella e poi come dicevamo abbiamo detto facciamo il punto gambero quindi torniamo indietro non voltiamo il lavoro questo punto non si deve mai voltare il lavoro lavoriamo sempre sullo stesso lato quindi fatta la catenella andiamo a puntare l'uncinetto sulla sulla maglia stessa che stiamo lavorando tiriamo su e chiudiamo con una solina poi andiamo avanti sempre così si va sul punto precedente nel filo tiriamo su e e chiudiamo le due soline e quindi vado avanti per tutta la riga torno indietro fino alla fine ok quindi creiamo questo cordone che di solito si utilizza per rifinire i lavori ma in questo caso lo lavoreremo durante proprio in mezzo alla lavorazione lo useremo quando arrivate alla fine della riga lavorata la penultima ma la penultima maglia ora ci rimangono le tre catenelle che fungono la prima maglia alta qui lavoriamo invece una maglia bassissima prendiamo praticamente prendiamo dentro l'ultima catenella lavorata e chiudiamo con una maglia bassissima e ripartiamo con il terzo la terza riga ora lavoriamo tre catenelle che fanno la prima maglia alta e adesso andiamo a lavorare praticamente su ogni punto gambero dovete lavorarci prendendo le asoline che avete dietro in questo modo che sono anche un po incrociate vedete così e lavoriamo una maglia alta ancora andate a prendere le asoline dietro lavorate in una maglia alta quindi lo dobbiamo fare per tutti i punti della riga ok ecco qua vedete si crea proprio questo cordoncino tra una fila e l'altra di maglie alte quindi anche qui dobbiamo andare a ripetere la seconda riga con il punto gambero quindi lavoriamo una catenella e poi andiamo a lavorare come abbiamo detto il punto gambero per tutta la riga quindi non facciamo altro che ripetere queste due queste due righe per tutta la lavorazione e terminerete magari sempre con il punto gambero a seconda poi di quello che dovete fare insomma ok faccio alcune righe e vi faccio vedere il risultato finale ed ecco qua vedete si creano proprio questi costoni che rendono il punto molto interessante è molto interessante anche provare a cambiare filato per vedere l'effetto che poi ne viene fuori sempre proprio con questi costoni ok anche questo video è terminato spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo ciao a tutti